Tempesta d'amore Tempesta d'amore, puntate prossima settimana, l'avvertimento Tempesta d'amore Anticipazioni Tempesta d'amore 8-14 ottobre, il flirt inaspettato. . Nuova settimana a Tempesta d'amore. La SOP tedesca, arrivata alla dodicesima stagione in Italia in onda tutti i giorni alle 19.50 su Rete4, vedrà prendere forma uno scontro tra due nuove protagoniste, Ella e Rebecca. . Quest'ultima in particolare, nelle puntate dall'8 al 14 ottobre di Tempesta d'amore, flirterà con William, sul quale aveva già messo gli occhi la cugina di Tina. Rebecca e Necombe scherzeranno in modo apparentemente innocente. . William farà finta di essere M.R. Vrong. Il gioco non piacerà però a Dela che vedrà nelle attenzioni dell'amica per l'amato della malizia. . La cugina di Tina ricorderà a Rebecca che già in passato le aveva portato via un fidanzato, Marcel. Presto il triangolo e la William Rebecca si intreccerà tenendo alta la suspense del pubblico di Rete4. . . Nelle prossime puntate della SOP tedesca anche Tina e Oscar saranno messi a dura prova. Le attenzioni della cuoca per David scateneranno la gelosia del mastro birraio. Oscar si ubraccherà e perderà la testa. Il giovane si risveglierà tra le braccia di Desiree con la quale passerà una notte di passione. . Inizialmente Oscar cercherà di tenere nascosta la sua scappatella, poi racconterà l'accaduto ad Adrian, che resterà scioccato. Successivamente Oscar confesserà tutto anche a Tina. . Tempesta d'amore, nuove puntate, la verità su William. Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d'amore, Tina sarà sconvolta dopo la rivelazione del tradimento di Oscar. La ragazza si confiderà con la cugina. . Ella le consiglierà di troncare la relazione con il mastro birraio. Nel frattempo Desiree sarà ostacolata da Adrian nel suo nuovo progetto. . La giovane sarà intenzionata ad occuparsi delle pubbliche relazioni dell'hotel. Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Werner scoprirà da Susan di essere il padre di William. La donna lo convincerà a mantenere il segreto. . . Nel frattempo, mentre si avvicinerà il lieto fine a Tempesta d'amore per Adrian e Clara, pronti a sposarsi e trasferirsi in Giappone, Charlotte recupererà la memoria e inizierà a ricordare tutte le bugie dell'ex marito. . Quest'ultimo si renderà conto di amare ancora Charlotte e, come prova di fedeltà, le rivelerà di essere il padre di William. . Come prenderà la notizia Charlotte? Ne conbeverrà a conoscenza dell'identità del suo vero padre? Intanto i rapporti tra Mica e le Natasha saranno sempre più tesi. . . Ferita dall'indecisione del marito, la donna chiederà il divorzio spiazzando il consorte, ancora ferito per il tradimento subito. L'appuntamento perciò con Tempesta d'amore è tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.50. . 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